Molestava le clienti che visionavano la merce esposta negli scaffali e le vittime prescelte erano le donne che indossavano minigonne. Un pensionato di 59 anni e residente a Calcinelli è stato denunciato dalla polizia allertata dalla vigilanza interna del centro commerciale Ocean di Bellocchi che tramite le telecamere interne del supermercato mercoledì scorso hanno notato un uomo che si avvicinava a legnare i vittime per allungare il braccio e scattare da sotto una foto con un cellulare. L'uomo è stato bloccato dagli agenti che lo hanno sorpreso con una immagine che ritraeva le parti intime di una donna ben visibile sullo schermo del telefonino. I successivi accertamenti hanno poi consentito ai poliziotti di trovare numerosi scatti catturati con le stesse furtive modalità. Si è accertato anche che il 59enne era solito frequentare gli ipermercati della zona soprattutto nelle ore mattutine quando il numero di signore intente a far la spesa e da sole era maggiore. Il pensionato è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria di Pesero per i reati di molestie e interferenza illecita nella vita privata.